vai prendi 10 chili e ci scaldiamo ah 10 chili c'è da scaldarci con 40 gradi fuori che scaldarci? è così importante? sì anche con 40 gradi fuori bisogna riscaldarci più che riscaldamento lo chiamerei come è giusto che sia attivazione neuromuscolare cosa significa? noi andiamo ad attivare a punto di vista muscolare quindi legamenti, tendine, muscoli a quella che è la prestazione andremo a preparare tutte le componenti neuronali per prepararci appunto a eseguire le sere allenanti ecco perché è importante fare della mobilità prima dell'allenamento è importante fare le serie di avvicinamento così da preparare tutto il corpo e la mente alla prestazione quindi i classici 10 minuti tapirulan con una velocità che è uguale a quella che abbiamo in passeggiata con gli amici e magari con il telefono in mano o le mani attaccate alle maniglie è bene inutile è bene invece fare della mobilità delle serie di avvicinamento per l'esercizio specifico e dare sotto con la prestazione va bene mi hai convinto mi scaldo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti